Una ulteriore stretta arrivata nella battaglia contro il coronavirus è tesa a implementare il distanziamento sociale, anche se probabilmente non nelle dimensioni proposte da molti governatori e amministratori locali. Vietate le attività sportive e motorie all'aperto in tutta Italia. L'ordinanza emanata dal Ministro della Salute va a stringere altre viti rispetto al DPCM dell'11 marzo, esigenza nata dalla necessità di azzerare la possibilità di assembramenti di individui in parchi e giardini. Rischio che persisteva, visto che molte persone, muovendosi tra le maglie delle precedenti disposizioni, si dedicavano ad attività di jogging e camminate all'aria aperta. L'ordinanza vieta l'accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, recita ancora l'ordinanza. Resta consentito svolgere individualmente attività motorie in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Il provvedimento va ad uniformare su tutto il territorio italiano quelle stesse misure che tra ieri e l'altro ieri erano state adottate da tanti sindaci che avevano vietato attività motorie all'aria aperta nei rispettivi comuni. Iniziativa intrapresa ad esempio in Abruzzo, con risultati subito tangibili a Pescara, Montesilvano, su quasi tutti i comuni della costa terramana e alcuni dell'interno, tra cui Atri e Campli. L'ordinanza poi dispone alla chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno di stazioni ferroviarie e lacustri delle aree di servizio per rifornimento di carburante, ad eccezione di quelle che si trovano sulle autostrade che possono vendere solo prodotti da asporto da consumare fuori locali. Restano aperti quelli degli ospedali e degli aeroporti a patto di garantire la distanza di almeno un metro tra tutti i clienti. Infine, non è possibile nei giorni festivi e prefestivi spostarsi verso abitazioni diverse da quella principale, vietato insomma a dirigersi verso le cosiddette seconde case. In pratica, nel ribadire che la prima cosa è quella di restare a casa, gli spostamenti restano possibili solo per motivi di lavoro, per acquisto di beni di prima necessità in farmacia, generi alimentari, ma anche i giornali presso le edicole, o per ragioni di salute, motivi che vanno provati in caso di controllo da parte delle autorità tramite autocertificazione. L'attività fisica è consentita solo nelle vicinanze di casa e solo individualmente. Restano confermate le chiusure di bar e ristoranti, mentre i supermercati continuano a restare aperti tutta la settimana. Su questo fronte però ci sono diverse eccezioni. I governatori hanno disposto la chiusura dei supermercati in Sicilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. E poi ci sono gruppi aziendali che hanno disposto la chiusura di tutti i centri in tutta Italia, per domani e per il 29 marzo come Conad e Auchan. Altre catene saranno aperte ma con orari limitati.